Agenzie di viaggio a fianco della Questura nella gestione delle prenotazioni per i passaporti, il ritorno ai viaggi dopo lo stop della pandemia, la Brexit che ha esteso l'uso del passaporto anche al Regno Unito, la paura per le notizie sui tempi d'attesa, la corsa al passaporto si è tramutata così in ansia che ha portato tantissimi a richiedere con largo anticipo il documento. Il questore di Padova, Antonio Sbordone, come aveva annunciato ieri i nostri microfoni, ha siglato oggi un accordo con le agenzie di viaggio. Abbiamo ribadito in una nota trasmessa a loro, perché venga diffusa a tutte le agenzie, come fare a prenotare con una maggiore facilità, come fare a superare i problemi oggettivi che ci sono e poi pensiamo anche a una PEC dedicata alle agenzie di viaggio, almeno per determinati casi, per superare e rendere più agevole l'approccio con la Questura. Sono quasi 60.000 le richieste di passaporto che sono arrivate alla Questura di Padova, 30.000 nella 2022. Una mole di lavoro non indifferente per l'ufficio, se si pensa che nel bienio 2020-2021 le richieste erano state solo 14.000. Abbiamo un modello in più che ci può servire per rassicurare il cliente, per cui noi come agenzia possiamo intervenire affinché il passaporto venga rilasciato un po' più velocemente. e quindi non ci sarà più la perdita della vendita e della firma del contratto, perché fondamentalmente il cliente firma il contratto nel momento in cui è sicuro di avere tutto per poter viaggiare. L'ufficio passaporti ha aumentato gli sforzi con le aperture anche al sabato, ma da oggi anche l'agenzia di viaggio sarà un ulteriore punto di contatto per il cittadino che deve partire e la Questura fornendo informazioni corrette su tempistiche e prenotazioni. Noi gli aiutiamo, gli diamo un supporto nell'avere una linea preferenziale, nel consigliarli e riuscire a prendergli tutti quanti gli appuntamenti necessari perché possano precedere per l'emissione dei documenti.